Ultima parata di big politici e candidati oggi in provincia di Ragusa per la chiusura della campagna elettorale. Domenica si vota e a mezzanotte di oggi scatterà il silenzio elettorale. Ad aprire quest'ultima giornata pre-elezioni il presidente dell'Udc Rocco Buttiglione, questo pomeriggio nel capoluogo Ibleo, nell'auditorium della Scuola Regionale dello Sport, per presentare in anteprima nazionale il volume La Sfida a far politica al tempo della crisi pubblicato da Rubettino. Si conclude così all'insegna della cultura la campagna elettorale del candidato Renato Meli. Alle 19.00 il comizio di Francesco Aiello, candidato del Partito dei Siciliani in Piazza del Popolo, a Vittoria, mentre alle 19.30 a Modica Antonella Lucifora, candidato nella lista Musumeci presidente, incontrerà amici e simpatizzanti. Chiude la campagna elettorale con un doppio appuntamento Pippo Di Giacomo, candidato del PD. Alle 19.00 sarà a Pedalino e alle 20.00 in Piazza Fontediana a Comiso. Laura Puppato, unica donna in corsa per le primarie del Partito Democratico, sarà invece a Modica alle 22.30 per il comizio di Anna Maria Sammito, candidata nella lista PD. Grazie. 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 Grazie.